Ciao, sono Fabrizio Apolloni. Sono un attore, un doppiatore e un direttore di doppiaggio. Ad Action Academy sono il docente di doppiaggio. Un bravo doppiatore dovrebbe avere una voce il più possibile nitida, pulita, scandita, con una buona articolazione, senza nessuna inflessione dialettale, a meno che non sia particolarmente richiesta in uno specifico prodotto. Deve essere capace di colorare, modulare, cambiare la frequenza, il valore, l'intonazione al microfono. E questo richiede una conoscenza molto raffinata e dettagliata dei propri limiti e delle proprie capacità. Nel mio corso i ragazzi impareranno a doppiare. Ma cosa significa doppiare? Doppiare significa andare a sync con l'attore a cui noi stiamo dando la nostra voce. Ma non è così semplice, perché doppiare vuol dire dare il cuore, l'anima, il respiro, esattamente a sincrono con la persona, l'attore a cui noi stiamo dando la nostra voce. Nel corso impareranno quindi il colore, le intenzioni, il volume della voce al microfono. Impareranno a respirare, a emozionarsi insieme all'attore. Questo è quello che faremo qui ad Action Academy. E come dico spesso, non c'è mai una seconda opportunità per fare una buona prima impressione. Io vi aspetto qui, ad Action Academy.